Per l'8 marzo 2021 la festa della donna a Pesaro non si testimonia soltanto con il simbolico regalo di un mazzo di mimose. Questa volta le mimose mettono radici. A Villa San Martino, nel parco in memoria delle partigiane femministe Sparta e Lea Trivella, sono stati piantumati cinque alberelli di mimosa su una iniziativa voluta dal quartiere Villa San Martino e dall'Udi Unione Donne in Italia che ricorda quanto questa ricorrenza abbia ancor più valore in tempo di pandemia. Per noi era importante osservare quelle che sono le condizioni per contrastare la pandemia, quindi il distanziamento sociale, le mascherine, ci si è raccomandati comunque ecco questa parte qui e penso che chi è stato presente l'ha potuto osservare. Per noi era importante che ci fossi chi raccogliesse anche questo simbolo che è delle donne e delle battaglie delle donne, visto che nel 2021 ancora la condizione delle donne non possiamo dire che sia migliorata, anzi la pandemia l'ha accentuata ancora di più. La problematica della violenza contro le donne, il problema del lavoro, il problema di un disgregamento anche sociale, c'è tanto da fare, è una nuova stagione di battaglia che noi ci auguriamo che tutte le donne raccolgano e che ci possano aiutare anche per il futuro. Coinvolto il quartiere di Villa San Martino con i volontari del verde pubblico dell'Auser che hanno piantato le mimose con l'aiuto dei bambini della scuola La Grande Quercia. Un'iniziativa molto importante in cui abbiamo avuto il piacere di collaborare con l'Udi in un parco per noi molto importante dedicato a Sparte della Trivella, ci lascia un segno di quello che è la lotta delle donne nel nostro quartiere in un periodo particolare. Ringrazio anche i nostri volontari del verde che sono stati sempre molto operativi e pronti a lavorare con noi e per cui sono davvero contento e buona festa delle donne a tutti. Piantare la mimose in un parco che porta il nome di due donne, due donne eccezionali che hanno fatto la guerra, sono state partigiane, hanno cresciuto le loro famiglie, sono state testimoni di storia di quel periodo anche nei nostri confronti e anche nei confronti della nostra generazione. Io credo che siano un bel esempio e che su questi esempi noi possiamo costruire anche la storia futura, anche la nostra storia attuale. L'importante è riuscire a ritrovare questa modalità anche di interazione che purtroppo il Covid ci sta ostruendo in qualche modo, però rimane la testimonianza. La testimonianza di persone di questo calibro rimangono nel cuore e nella testa di ciascuno di noi perché diventano appunto esempi di vita. Gli esempi di vita sono quelli che costruiscono un po' il nostro cammino. Da Villa San Martino al Municipio, nella ricorrenza dell'8 marzo, il Comune di Pesero ha deciso di omaggiare l'ex difensore civico Graziella Gentilini Vitali con il premio Sara Levinathan. È una donna di una cultura profonda, di una capacità di coinvolgimento di tutte le associazioni femminili e anche dell'amministrazione comunale di grande spessore e soprattutto è infaticabile, propone delle cose valoriali che possono essere presentate sia alle scuole che alla città che all'associazione, ma con degli aspetti che ti danno delle prospettive di vita. Lei ha saputo fare questo nel suo percorso di vita, noi pensiamo che è una donna che da insegnante a difensore civico, a giudice di pace, ha lavorato anche presso all'università, quindi ha avuto molteplici incariche nella società e ha sempre arricchito molto con il suo esempio il percorso anche di questa città. Grande commozione e di gratitudine verso questa città che ha cercato sempre anche di ascoltare la donna per quello che ho potuto sia come Presidente del CIF sia prima quando ero anche Presidente della Commissione Pari Opportunità e ho trovato sempre nella città di Pesaro una risposta, comunque un incontro positivo e questa è una cosa che mi ha stimolato a proseguire in questa battaglia della donna nel ricercare la parità che io spero un giorno non si realizzi perché attualmente siamo molto lontani da questo e quindi il riconoscimento in questo giorno, anche dedicato con una figura come quella di Sara Levinatam che ha saputo conciliare l'impegno politico e quello familiare, io sono una piccola madre rispetto a Sarina a Sarina Levinatam aveva 12 figli e io ne ho solo la metà, anche se sembrano tanti e quindi è una cosa che mi dà orgoglio e mi stimola per quel poco che ancora potrò nella mia vita ad andare avanti e a cercare il meglio e a cercare di operare sempre per il bene della città e soprattutto per la parità tra l'uomo e la donna.